E' un reato, non ricordare. Lof. Mi chiamo Lof. E io mi chiamo Leonardo da Vinci. Prenderò una bella polmonite, signore. Maestro? Passerà dei guai molto seri. Non sono uno qualunque. Stasera, non molto lontano dal suo casale, è stato commesso un assassino. Non ha prove contro noi. E non lo sarà di certo banale vuoto. Luogo e data di nascita. Cosa sta pensando nella sua testolina da poliziotto campagnolo mezzo fallito? Giusto qualche piccola domanda, una pura formalità. Perché questo interrogatorio? Lei non ricorda cosa è successo solo quattro ore fa? Le pare possibile? Grazie. Grazie.